mi stavo giusto apprestando a mangiare questo bel panino gourmet panino gourmet anche dietetico vegetarianissimo e mi sono detto ma perché non fare una mini playlist sui panini panini recenti diciamo perché di panini a te che Milano è piena e allora eccoli qua ecco qua una mini playlist con cartelli alla floris su panini e cominciamo con giardì qui è scritto un po male ma insomma giardì il nome è un locale vegetariano proprio come il mio panino che tra poco mangio tra le varie offerte c'è questo panino che loro chiamano sandwich pane casereccio formaggio veg funghi cipolla una maionese veg e non è niente male passiamo al cartello 68 cristalleria o cristalleria è una paninoteca particolare perché usa un pane tipico spagnolo credo di barcellona che è il pan de cristal pan de cristal come dicevo no in veneto anche oltre che a barcellona è croccantissimo veramente croccantissimo e leggerissimo è uno dei migliori panini di Milano mi stava addirittura per la gola perché purtroppo sono a dieta accadendo il cartello successivo che è questo sincera allora la trattoria sincera è una trattoria un ristorante più che altro che secondo me deve ancora migliorare molto però ha avuto un'iniziativa carina cioè fanno l'aperitivo sincero è cos'è dalle 19 alle 22 con una spesa contenuta per la consumazione che va dei 5 ai 7 euro più il bere fanno una michettina con salumi imbottita di salumi oppure anche di verdure noi teniamo molto al veg e questa formula è più interessante di quella del ristorante che serve piatti milanesi fatti un po' così così ecco però quando si parla di panini io non posso fare a meno di pensare alla mia paninoteca preferita che è questa quadronno c'è scritto quadronno e fidatevi anche se non si legge niente e quadronno è una paninoteca che ha la mia stessa età quindi circa 300 anni e i panini sono buonissimi e anche se non è nuova io mi sento di doverla citare ma adesso passo al panino più buono di tutti eccolo qua guardate piccolo ma sostanzioso buon appetito alla prossima cronaca gastronomica